... Adesso arriviamo lì, c'è due piante e basta vai 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 che dopo non so dove va e appunto oh non si segue il presidente eh non si segue il presidente ex non si... guarda che oh veramente oh basta che gli fai vedere una roba cazzo giù sotto vai che dopo quando sei su dove vai ah scendiamo da là allora andiamo che scendiamo vai 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 L'abbiamo fatto scappare lo scoiatolo e basta. L'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto scappare lo scoiatolo. Dovemmo scendere dove siamo arrivati. È una pazzia. No, andiamo di là e scendiamo ancora dove è. Ha voluto far solo l'anello e basta. Non lo so. Non lo so. Qua non lo so che cazzo hanno fatto.